Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda il meteo, il colonnello dell'aeronautica di Diodato dice allarme medicane. Voi direte che è un medico? Cos'è medicane? È un ciclone tropicale che sta arrivando verso l'Italia. Il caldo rovente dell'estate 2022 ha ben pochi precedenti. Come ricorda il tenente colonnello Attilio di Diodato, gli ultimi tre mesi sono stati i più caldi da 72 anni a questa parte. Praticamente dalla nascita della Repubblica Italiana fino ad oggi, questo è stato l'estate più calda mai registrata nella Repubblica. Da maggio alla fine di luglio, spiega, le temperature sono state molto elevate su tutto il bel paese. Si è trattato di un'andata di calore molto intensa. Le temperature sono state superiori alla media del periodo e le precipitazioni sono state inferiori. Secondo l'esperto raggiunto da un giornale, a determinare l'inusuale andamento climatico è la presenza in Italia, ma anche in tutta Europa, di una persistente alta pressione di origine africana. Oltre a preoccuparsi per gli effetti immediati, gli esperti temono le conseguenze a medio e lungo termine. In particolare, prosegue il tenente colonnello, dobbiamo tenere conto che questa situazione di alte temperature così persistenti si ripercuote sulla temperatura dei mari. Ecco allora che eventuali anomalie positive in estate, e per ora siamo anche dell'ordine di 4 gradi, daranno luogo a un rilascio di vapore d'acqua maggiore in autunno, attivendo dei processi convettivi di convessione. Processi che possono sicuramente portare a fenomeni estremi alla stregua di cicloni mediterranei, i cosiddetti medicani. Sono cicloni tropicali che daranno origine a intensi fenomeni associati sia a livello di precipitazione che di 20. Ma non è tutto perché il caldo ci accompagnerà fino a fine agosto. Stando alle previsioni del colonnello, le temperature saranno ben sopra la media anche a inizi settembre, con piogge sporadiche nelle aree montuose centro-meridionali. Addirittura le temperature saranno più alte di circa un grado rispetto alla media del periodo, tranne in pianura padana e sull'alto adriatico, dove l'anomalia sarà molto più importante e si supereranno i due gradi in più rispetto alla norma. Intanto vi racconto anche che il caldo è in escalation, escalation, communication, vi piacciono le parole in inglese. Il caldo in escalation fino a sabato, poi il colpo di scena. Temperature fino a 38-40 gradi, poi tornano i temporali. Caldo insopportabile con la breve fortissima fiammata africana che porterà le temperature a 38-40 gradi, ma all'orizzonte intravediamo una buona notizia. Da domenica il possente anticiclone africano potrebbe perdere potenza e lasciare spazio a temporali e veloci rinfrescate ad iniziare dal nord. Le prossime ore vedranno l'ulteriore espansione di un cuneo di alta pressione nordafricana, con temperature, pensate un po', 10-12 gradi superiore alla media del periodo. Lungo un'asse sud-ovest-nord-est, l'ondata di calore investirà in modo intenso Francia, Germania e regioni alpine. Anche in Italia vivremo una breve fortissima fiammata africana fino a sabato in estensione graduale, dice l'esperto in estensione graduale dal centro-nord verso il meridione. Ma torniamo alla buona notizia, gli ultimi aggiornamenti modellistici, statistico-matematici, indicano la probabilità di un parziale cedimento del campo anticiclonico africano da domenica, con l'arrivo di temporali a tratti, momenti a tratti, intensi al nord. Potremmo avere anche un calo delle massime di 7-8 gradi centigradi. Buona notizia seguita da un'altra buona notizia. La prossima settimana temporali e calo delle temperature potrebbero interessare quasi tutta l'Italia, soprattutto nel pomeriggio con un clima più decente per alcuni giorni. Potrebbe sembrare una brutta notizia, ma mai come quest'anno l'arrivo di piogge, temporali e vento è strabenvenuto anche se con il rischio di qualche fenomeno violento a causa dell'eccessivo calore accumulato negli ultimi giorni. E diciamo che si conferma la possibilità di rovesci delle Alpi alla Sicilia per la prossima settimana, in un contesto più tardo primaverile che è estivo. Al mattino, poi rivalenza di sole, nel permeriggio acquazzoni a macchia di leopardo, va detto che essendo nel periodo del solleone, quello climatologicamente più caldo per l'Italia, le temperature massime saranno ancora ben oltre i 30 gradi, ma decisamente più sopportabili. Confermando che le previsioni oltre i 3-4 giorni devono essere aggiornate e verificate quotidianamente, alimentiamo con il nostro ottimismo e con il mio ottimismo questa speranza di acqua e fresco, due parole che sono diventate ormai rare nel vocabolario meteorologico. Mentre diciamo che sabato, oggi, 6 agosto, a nord, sole e caldo ben oltre la media del periodo, qualche temporale dal tardo pomeriggio, possibile anche in pianura. Al centro sole e caldo intenso ben oltre la media del periodo, al sud soleggiato e caldo ben oltre la media del periodo. La tendenza è che da domenica possibili temporali al nord con fenomeni localmente intensi, a tratti anche lunedì. Sempre caldo al centro-sud, ma con graduale cedimento dell'alta pressione nella nuova settimana e frequenti acquazzoni pomeridiani. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ricordatevi che potete trovare anche sull'altro mio canale, che si chiama Teleitalia Seconda Rete, dei video che parlano di notizie, di politica, di fai da te. Poi questi video dei due canali, Teleitalia e Teleitalia Seconda Rete, li trovate condivisi nelle prossime ore e anche nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia, dove lì appunto questi video, se vi sono interessati, li potete condividere con chi volete. Non c'è nessun problema di diritti da autore. Grazie a tutti e arrivederci a presto.